con più di 7.000 visualizzazioni sul canale YouTube del Premio Manente Alfredo Lavorato e Imma Guarashi con Palma! Arriva Alfredo! Complimenti! Valentina raggiungici! Arriva anche Imma, certo Valentina! Come siete belle tutte in rosso! Vieni Imma! E signora in rosso! Complimenti, complimenti! Un grande applauso! Con il miglior brano vincono i Calavria! Complimenti! Arrivano anche i tuoi ragazzi! Premio, miglior regia va a Imma Guarashi con Palma! Tutte commosse stasera, Virgi, che stiamo facendo? Complimenti! Grazie! No, parlo io, perché ci tengo a premiarti io, perché Imma è veramente una persona speciale, in questo video ce l'ha dimostrato. E comunque Imma Guarashi è un'affermata regista e attrice e si è messa in gara, in gioco qui e ne siamo veramente orgogliosi. Il tuo videoclip era una storia struggente e si vede che c'era dietro un lavoro di ricerca. Signore e signori, alla band statale 107bis con muri muti e al video diretto da Aldo Riccioppo, la menzione speciale. Complimenti! Potete avvicinarvi, eh? Non mangiamo! No, 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 no! Anche se si è fatto un gioco! Anche questo! Effettivamente! Adesso siamo più sciolti, Luciano! Prima eravamo un po' più impostatelli, va! E con questa menzione speciale premiamo Mario Nunziante, il suo, senza più colori, regia di Domenico Leonelli! Complimenti! Bravo Mario, complimenti! Allora, io infatti volevo ringraziare Domenico perché veramente ha fatto un lavoro eccezionale, abbiamo girato per le vie, abbiamo sudato tantissimo per registrare questo video. Grazie mille Domenico e grazie a tutti quanti per questa bellissima serata. Grazie a te, grazie mille. Premi a Giuseppe Marasco e vincono, signori e signori, con braci Ibeiche e la loro regia di Nino Maesano. Ibeiche Moro! Moro! È tutto stasera. Vabbè, Ibeiche è proprio da starci, vabbè! Sì! No! Cosa significa Beiche Moro? Sono due sigari, uno copano e uno italiano. Ah, posso!